Professor Sabino Cassese, l'idea di fermare la prescrizione dopo il giudizio di primo grado per sempre è compatibile con la Costituzione o urta contro qualche suo principio? Contro due principi. Primo, quello di ragionevolezza secondo il quale si ammette l'esistenza di un passato che non passa, di un tempo che si ferma e secondo contro un principio espresso che è quello del fine di rieducazione, se lo scopo è quello di rieducare il condannato vuole dire che la Costituzione ha assunto che il tempo abbia una funzione nel corso della vita di una persona e che una persona possa essere oggi diversa da come era ieri e questo se vale per la pena vale anche per colui che non è stato condannato ma soltanto accusato. Senta, il professor Fiandaca, noto penalista, dice che urta anche contro il principio di eguaglianza perché sostanzialmente dopo il giudizio di primo grado un reato bagatellare sarebbe considerato alla stregua di un reato gravissimo, cioè la prescrizione sine die per entrambi i reati cozzerebbe contro il principio di eguaglianza. Condivide? Non solo condivido ma ritengo che questo principio sia stato affermato dalla Corte di diritti dell'uomo di Strasburgo quando ha sanzionato più volte il Regno Unito perché ha sottratto il diritto di voto a coloro che sono in prigione, come i cosiddetti voting rights dei prisoners, sostenendo che questo è possibile per alcuni reati ma non per altri reati e quindi che non tutti i reati sono uguali. Con la prescrizione lo Stato rinuncia alla sua pretesa punitiva. Ma perché il decorso del tempo fa perdere questa potestà? Per due motivi. Il primo perché nel corso del tempo le persone cambiano e quindi anche il più terribile omicida potrebbe non essere più tale dopo 20 anni. Il secondo è perché l'intero sistema punitivo dello Stato non è fatto per una giustizia totale. Noi non siamo sotto la cappa di un'autorità che ci guarda ogni giorno e che potrebbe darci una sanzione. Non siamo tutti colpevoli salvo che non essere stati scoperti nella nostra colpevolezza. Senta, ma i tempi dei processi obiettivamente sono lunghi. Chi sostiene la necessità di fermare la prescrizione fa riferimento a questo problema e quindi il tempo del processo vanifica l'azione punitiva dello Stato. Nella Costituzione ci sono dei principi che riguardano la durata dei processi? Cioè la Costituzione si preoccupa di tutelare questo aspetto? Certo, c'è un problema che riguarda la ragionevole durata dei processi che non solo nella Costituzione ma è anche in tutto l'ordinamento. Pensi soltanto che per qualcosa che è meno importante del processo e cioè il procedimento amministrativo che appartiene alla stessa famiglia dei processi penali e civili è stabilito in una legge del 1990 il termine di durata, il termine di default, quindi quando non sia determinato c'è un termine molto stretto che è determinato da una legge. Quindi questo è un tema che riguarda l'intero ordinamento giuridico. Ma perché i processi durano tanto in Italia? Ci sono diverse cause. Primo, la eccessiva giudizializzazione del sistema sanzionatorio perché possono esserci anche sanzioni che non siano di tipo penale. Secondo, la inefficiente organizzazione della giustizia in Italia. Non c'è dubbio che noi abbiamo alcuni dei migliori giudici del mondo, ma non c'è dubbio che siano organizzati nel modo peggiore che si possa immaginare. Terzo, un'elevata conflittualità che non c'era prima ma che è andata aumentando nel tempo del tipo americano, diciamo, che si differenzia molto dal modello giapponese dove i conflitti vengono risolti all'interno di categorie, di gruppi, di famiglia e così via. L'insieme di tutti questi fattori produce questo risultato abnorme, e cioè l'eccessiva durata della giustizia in generale in Italia. Lei ha detto che questa alleanza tra una parte della magistratura, quindi l'azione penale di alcune procure, dell'opinione pubblica e della politica, ha creato quasi un nuovo potere dello Stato, assolutamente una configurazione nuova nella democrazia costituzionale italiana. È così? Certo, perché c'è un potere che è quello di dare una sanzione senza un controllo, perché la sanzione consiste nel naming and shaming. Il controllo non c'è, perché se arriva un giudizio e arriva tardi e se si scopre, come ci è stato detto da uno dei più importanti magistrati italiani, che solamente un quarto degli accusati risultano poi colpevoli e quindi che tre quarti sono innocenti, questo è veramente l'esercizio di un potere autoritario ed arbitrario. In cui le misure cautelari sono una pena anticipata. Ma questo sistema si può modificare? Cioè lei è fiducia nel futuro, nella capacità di questo Paese di assumere misure che cambino questo sistema, riportandolo a una fisiologia compatibile con i principi democratici? Io voglio fare una precisazione, lei ha parlato di misure cautelari, io mi sono riferito per ora soltanto a chi è accusato, non è sottoposto a misure cautelari, le misure cautelari sono ancora peggio, sono di più, quindi io mi riferivo soltanto alla gogna, poi dopo vengono le misure cautelari e anche nell'esercizio delle misure cautelari bisognerebbe stare attenti, perché purtroppo vi sono misure cautelari come per esempio la confisca che stanno debordando ampiamente dalle reati che attengono la mafia ad altri reati e lei capisce che la confisca è una misura cautelaria molto grave, molto afflittiva, diversa dal sequestro, la confisca è la sottrazione di beni a delle persone. C'è la possibilità di cambiare? Sì, c'è la possibilità di cambiare se agiscono numerosi fattori. Il primo interno al corpo della magistratura, questo è un fatto che riguarda sostanzialmente le procure ed è nelle mani di persone sagge che ci sono nelle procure, quello di agire con la cautela che sarebbe proprio dei magistrati. Noi vogliamo che i procuratori siano magistrati perché abbiano il comportamento del magistrato, se si comportano come Robin Hood non sono più magistrati. Secondo, gli organi giudicanti, perché se gli organi giudicanti giudicassero rapidamente, forse molte di queste cose si sconfierebbero. Terzo, i mezzi di formazione dell'opinione pubblica. Se queste notizie non avessero prime pagine dei giornali o dei telegiornali, il naming a shaming non ci sarebbe. E quarto, aggiungiamo, quelle forze politiche che su questo hanno costruito il loro piedistallo, perché ci sono delle forze politiche che narrando di un paese criminale e corrotto e poi dicendo io ho fatto delle leggi che danno a Robin Hood il potere di intervenire, hanno costruito un impero politico.